Martedì sera un turista stava camminando per Venezia in prossimità del bordo della fondamenta nei pressi del ponte dei Sospiri, quando è caduto in acqua perché stava guardando il cellulare. Con lui c'era il figlio che senza esitare si è tuffato per salvarlo, ma entrambi si sono trovati in difficoltà. Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti della questura di Venezia che hanno trovato il conducente di un'imbarcazione arrivato nel frattempo che tentava di aiutarli. A quel punto i poliziotti hanno fatto il resto. Padre e figlio sono stati quindi invitati dagli agenti a togliersi gli indumenti fradici per evitare di incorrere in rischi ipotermici, per avvolgerli poi con coperte termiche. Poco dopo sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco e il personale del SUEM, che li ha portati al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.